Buongiorno, allora modifica di oggi, proverò a trasformare questo avvitatore a batteria da batteria a filo per farlo andare in una baita. Questo ha l'alimentatore rotto e quindi vediamo di farlo andare in una batteria. Allora apro la batteria, qua ci sono 4 torx con il foro centrale, ok batteria aperta e la tolgo. Se io vado a alimentare direttamente a 14 volte 4, non gira perché ha un terzo connettore e dovrebbe essere la sonda di temperatura. Vabbè, quindi provo a rimuovere le batterie e mi tengo il circuito di carica. Allora collego sta spina direttamente nel pacco batterie, poi qua ci si andrà a mettere una presa dell'accendisigari o qualcosa del genere, un spinotto diverso. Allora io correrei qua di lato, in modo che se c'è da appoggiare il cavolo non è in mezzo. Quindi il blu è positivo, il nero è negativo, il marrone è negativo. Ricchiudo la batteria. Ricchiudo la batteria. E voilà, modifica riuscita. Spero il video vi sia piaciuto e ciao al prossimo video. Grazie a tutti.